Ciao ragazzi e ragazzi, come vi ho fatto vedere ieri, oggi è arrivato il momento di fare il room tour della stanza in cui dormo qua a Trapani. È una superior, andiamo ad aprire, preparatevi perché è stupenda! Vado a mettere la carta e si dovrebbe accendere la luce a regola. Ah, no, le devo riaccendere io? Ok, quindi accendiamo. No, questo è tutto spento. Oh Gesù, Marco, ho sbagliato! Ok, allora quel tasto non lo devo toccare, ricordatemelo, ma veniamo a noi. Questa è la porta da dove siamo entrati, quindi la vista appena entriamo è questa qui. Io adoro, la prima cosa che ho visto è questo pavimento. Stupendo, ma ne parleremo perché subito sulla mia destra c'è un armadio. Noi andiamo ad aprire la prima anta e qua già troviamo innanzitutto la classica cassaforte che troviamo in tutte le stanze di hotel. Ma sotto c'è anche un mini frigo bar che se noi lo andiamo ad aprire guardiamo cosa c'è dentro. C'è una bottiglietta d'acqua naturale, una bottiglietta d'acqua frizzante, poi c'è una Fanta, una Coca-Cola, normale anche questa, due bicchieri di plastica, un apribottiglia, una birra Moretti e poi anche un Prosecco Soligo. Adoro, o Soligo, scusate, ma al momento non abbiamo bisogno di questo. Andiamo quindi a chiudere quest'anta. Apriamo quest'altra e oltre alle mie valigie, perché l'ho messo qua per non farvele vedere, e dentro quel sacchetto, se non sapete cosa ci dovesse essere, significa che non avete visto il vlog di ieri, quindi andate a correre, a vederlo. Ma vi volevo far vedere che finalmente abbiamo le ciabattine! Che bello, che bello! Anche se... Ah no, sono mie! Due pa... Due paia, ok, perfetto. Così, per farmi sentire solo un'altra volta. E sopra, nella parte superiore dell'armadio, abbiamo il classico secondo cuscino. Direi che per qua abbiamo fatto tutto, ok? Lì non c'è niente, quindi abbiamo finito con questo armadio, ci possiamo concentrare sulla stanza. Perché io faccio un passo, io faccio due passi, io faccio tre passi, e questo è il letto matrimoniale. È grosso, devo dire che è grosso, grosso, grosso. Fatemi accendere quella luce perché mi dà noia che quella sia accesa e questa no. Eccoci qua. E abbiamo quindi, da un lato, il telefono per chiamare appunto la reception. Poi qui c'è il cartellino per la carta appunto della camera. Questo è mio, ce l'ho messo prima per caricare il telefono. Questo è mio, questo è mio. E un telecomando, un telecomando per accendere quella televisione là. Ma ci arriveremo. Dall'altra parte, nell'altro comodino, abbiamo, cosa non scontata perché quasi mai l'ho trovato, un block notice, fogliettini dell'hotel, con una matita. E adesso, io direi che è arrivato anche il momento di provare questo letto. Secondo me è duro. Sì, ok, è duro. Sembra tipo, è un po' il mio di casa. Sì, probabilmente sì. È il solito. Ah, io ho questi cuscini. Allora, la prova cuscini, io odio i cuscini morbidi, ok? E piccoli così. Ma, siccome voi sapete che io sono solo, dormirò con questo sopra questo. E di solito, allora no, mi sa che dormirò di qua, nella parte di qua. E poi diventerò, tipo, casualmente obliquo. Però, prova letto superata. Nel senso che il materasso mi piace, che sia duro in questo modo. I cuscini, un po' meno. Adesso torniamo a noi, perché davanti al nostro letto matrimoniale abbiamo questo tavolino con due divani ad un posto. Questa è una citazione che solo i veterani possono cogliere. E mi piace, devo dire, anche che sia tutto sul giallo, vedete? Tende, poltrone, letto, schienale del letto. Mi piace molto. Le porte, per esempio, sono gialle. Mi piace, mi piace, mi piace. E sopra il tavolo abbiamo una rivista, ok? La vedremo poi. Poi mi sa che abbiamo anche i zampironi per le zanzare. Oh, vuol dire che ci sono già le zanzare qua. E questo, ve l'ho fatto vedere nel vlog di ieri, è una carta per il drink di benvenuto, che dobbiamo andare a prendere al bar accanto, comunque il bar dell'hotel. Ma continuiamo, perché se ci spostiamo alla mia sinistra, qua abbiamo anche un cartoncino di benvenuto. Gentili signori, ok, mi danno del plurale, diamo il nostro più cordiale benvenuto, augurandovi un piacevole soggiorno. la direzione, qua abbiamo le due acque, che comunque non sono a pagamento, sono quelle gratis, che puoi bere quando vuoi. Sopra il tavolino, che mi piace anche molto, tra le altre cose, sì, è duro, adoro, c'è questa televisione che è enorme, ma se io metto così, tipo, si può? No, è enorme, ma io le televisioni di solito non le accendo, ma vedremo, e subito accanto una bellissima, grossissima lampada. Se proprio devo fare un appunto, una nota negativa, è la luce gialla. Io odio la luce gialla, ma semplicemente per i video. ho paura che quella sia una zanzara. Se quella è una zanzara... Anche quella è una zanzara. Anche quella è una zanzara. Scusami, ma quante zanzare ci sono? Anche quella è una zanzara. Ecco perché c'è questo! Fatemelo mettere subito! Ma c'è un po' pazzi! Ci sono le zanzare qua! Ma è impossibile, ragazzi! No! Non me lo dire! Io muoio, eh! Se ci sono le zanzare! Ora come si mette sto coso? No, ragazzi, io... Ma pazzo! Dai! Allora, non so come si apre. No, me lo dì! O me lo dì, ragazzi! Non me lo devi dire! Vabbè, mettiamo questo qua! Ok! Perché non so se le vedete, ma sono anche enormi! Una, due, tre! Oddio! Come faccio a mazzalle? Nemmeno ci arrivo, è altissimo questo soffitto! Oh, Gesù! Vabbè! Concentriamoci su di noi! Perché ancora sulla sinistra c'è la prima porta-finestra! Che se io vado ad aprirla, la vista è questa qua, direttamente sul mare! Anche se oggi, appena sono arrivato praticamente, c'è questo tempaccio un po' così! Vabbè, però comunque il mare lo potete vedere benissimissimo! Là, appena mi sveglio, si vede il mare! Chiudiamo questa prima porta-finetro perché, lo so che l'avete già vista, ce n'è un'altra qua, dietro il tavolino, con queste tende super stupende, ma ci mettessero magari una zanzariera, dato che è pieno di zanzare! E la seconda visuale è qua! Penso che sia alla città, non lo so, qualcosa! Vedete che sta per venire un tornado, secondo me? Adoro! Ah, anche se questo è un po' arrugginito, ma deve essere forse perché è un po' ansianotto! Ecco, chiudiamo tutto e adesso è arrivato il momento di innanzitutto dirvi ciao, vi amo, perché questo è uno specchio super! Qua sotto c'è un tavolino in legno e ci ho messo la miroba e soprattutto mi hanno dato un asciugamano perché nel rooftop c'è la piscina! Adoro, 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 però con questo tempo non si sa mai, ma qua, dietro questa porta, c'è il bagno! Il bagno, lo sapete, che è molto importante per me! Quindi, 3, 2, 1, apriamo tutto! Questo è il bagno! Probabilmente c'è questo casino, non so per quale motivo, ok, qualcuno in un'altra stanza, effettivamente, forse, ha tirato lo sciacone! Ma, eccoci qua, questo è il bagno! Da una parte, sulla sinistra, ci sono i sanitari! Vi ho cambiato visuale perché faceva un po', traballava con il 4K e devo dire che sopra il bidet ci sono due asciughini, poi abbiamo anche la classica saponetta, qua il cestino per i rifiuti e di qua il WC, che ho già fatto! Ma dovevo rimetterci quello perché non ve lo dovevo dire! Ci sono i due sciacconi super carini e poi scatizza merda e la cartigianica, mentre qua nel lavabo, oltre al mega specchio, che, cioè, scusate, 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 sono adorevole, qua abbiamo, andiamo un po' a vedere le varie cosine, questa è la cuffia per la doccia, Oh, qui cosa abbiamo? Hair and body wash, shampoo doccia, mentre questa è una crema a mani, ok? E questo è un altro shampoo doccia. Non abbiamo, ancora una volta, la skin care! E qua ci sono altre due saponette, mentre qua i classici due bicchierini di plastica. Andiamo di sotto perché troviamo altri due asciugamani grandi, penso per la doccia, due asciugamani normali e qui finalmente posso gioire perché c'è, sì c'è, ok? Il sono normale e quindi sono super super contento, lo amo al momento, lo rimettiamo qua, poi lo metterò a posto, a modo. E adesso, ragazzi, la mega doccia! Cioè, io non so se avete presente quanto è grossa questa doccia, è bellissima, così si vede meglio, così sembra più piccola, ma così è super bella. La doccia indietro, apriamola e ci abbiamo due soffioni, questo super grosso che io amo e poi anche questo, quello normale. E là penso ci siano altre due shampoo doccia, insomma, altri due shampoo doccia, adoro. Qua il pavimanto, questo che cos'è? Ok, è uno scantuccino e questo dovrebbe essere il tappetino da mettere qua quando facciamo la doccia. Adoro! Bella, bella, bella! Bello! Mi piace, mi piace! Quindi, ragazzi, ragazzi, io, a parte quelle zanzare, ma fino a quando stanno lì, io direi, ma siamo signori che sono zanzare? Io provo a tirargli qualcosa. Gli devo tirare qualcosa per vedere se sono zanzare oppure no. Allora, la tiro a quella. Ti ho un po' più. Sì! Si è mossa! Sì, sì, sì. È una zanzara. Ok, sono zanzare a Trapani e ci sono le zanzare. Ok, ma fino a quando stanno lì ferme, tutto a posto. Per il momento. Io ho paura delle zanzare, ragazzi, che non mi fanno dormire stanotte. Lo so, però devo dire che questa stanza mi piace tantissimo. Non stavo in una stanza così carina da tanto tempo. E veniamo a noi adesso, alla fine di questo video. Quanto ho speso per questa camera? Questa è una superior matrimoniale e ho pagato per alloggiare qua in questa super stanza di quanti metri quadrati? Ve lo dico subito. 27 metri quadrati, ho pagato 550 euro, ma per quattro notti. Quindi fate voi la divisione che io non la so fare. Mi piace tantissimo. Io continuo a guardare là per le zanzare, ma farò venire Diego a fare qualcosa. Anyway, ragazzi, ragazzi, fatemi sapere adesso voi qua sotto tramite commento se vi piace questa stanza. Sono curiosa di vedere in realtà quella di Diego e di Naiko, che loro sono al piano di sopra, ma quando siamo stati a fare il check-in ho sentito che era una stanza normale, di quelle regular. Quindi, ho vinto io. Anyway, per oggi è tutto. Penso che questo soggiorno a Trapani mi farà molto bene. Ci vediamo quindi domani al prossimo video. Ciao! Ragazzi, sono ancora io. Mi sono messo a cercare di uccidere tutte le zanzare. Erano quattro? Tutte e quattro, grazie a questo, sono state rimosse. Allora, questa è una tecnica super. Quando non arrivate a una cosa, ti tirate il cuscino che, essendo comunque morbido, non lascia né... cioè, non far lasciare nell'impronta sul muro e né ti rimane sul cuscino. ma semplicemente le rintontisce un attimino, dovete fare piano, non super forte, e le fa cadere in terra e lì le potrete uccidere. E adesso siamo liberi, per il momento, dalle zanzare. Io ora non aprirò le finestre, quindi fino a domani, a regola, dovrei essere a posto. Niente, vi volevo informare solo di questa cosa, quindi ciao! Faccio un altro PPS. Nel vlog di domani vedrete anche la colazione di questo hotel, perché questa volta la colazione è inclusa. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao! Questa volta davvero!